26 aprile questa è mariupol alle mie spalle la sovstal questa è la via lungo la quale i civili rimasti all'interno dell'impianto possono fuggire è il famoso corridoio umanitario come potete ben sentire in sottofondo non si sente un solo sparo insolito fatto insolito per questa città nelle ultime settimane ok 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 Grazie a tutti.